In sospettiti dalle manovre del conducente, la Guardia di Finanza di Catania, nel corso di un servizio di controllo a bel passo, ha fermato un uomo con due uomini siracusani. A bordo hanno trovato due preogevoli testi in terracotta di origine ellenica, presumibile frutto di scavi archeologici clandestini, avvolte da carta e vecchi indumenti. Le persone controllate hanno tentato di giustificarne il possesso, affermando che si trattava di prodotti artigianali da loro realizzati. I militari si sono quindi rivolti ad un esperto archeologo della soprintendenza, che in via preliminare ha dichiarato che le teste potessero essere originali e risalire al IV secolo a.C., il cosiddetto periodo severo dell'arte greca. Sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti, due sono stati segnalati all'autorità giudiziaria etnea per il lecito possesso di beni di valore storico-archeologico e per ricettazione, sottoponendo a sequestro i reperti. L'intervento della soprintendenza dei beni culturali e dell'Università degli Studi di Catania ha poi permesso di confermare l'originalità delle opere, ritenute pezzi unici nel panorama noto della storia antica, con un'altissima qualità estetica ed esecutiva, risalente al 450-480 a.C. In particolare, gli archeologi della soprintendenza hanno evidenziato che si tratta delle parti superstiti di due tegole a sezione triangolare, chiuse da maschere antropomorfe di dimensioni naturali, raffiguranti i giovani volti di un uomo e di una donna. I manufatti, in eccellente stato di conservazione e restaurati con una certa perizia, costituivano la decorazione delle falde di copertura di un piccolo tempio o un edificio funerario, stilisticamente confrontabili con le sculture frontonali del Tempio di Zeus a Olimpia, massima espressione dello stile severo dell'arte greca. L'autenticità dei due reperti è stata inoltre confermata dalla metodologia messa a punto presso i laboratori dell'Università degli Studi di Catania, da docenti e ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia Ettore Majorana, specialisti nel campo dei test di autenticità tramite termoluminescenza e del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica per le competenze specifiche nell'ambito delle misure elettriche ed elettroniche.